Buongiorno, sempre qui l'ospedale e la Ferri è sempre più bella. Non ha nemmeno fatto in tempo a venire al mondo che è già diventata virale la secondo genita di casa Ferragnez. I corredini della piccola Vittoria con il logo simbolo del brand, ma realizzati ad Arezzo, sono infatti già diventati capi di culto. Credo che la qualità e la conoscenza di un prodotto in generale siano la formula vincente di questo oggi. I completini sono realizzati da Mona Lisa, azienda leader nel settore dell'abbigliamento per bambini. Era previsto che si potesse migliorare, ma non in questa misura, e quindi benvenga, cercheremo di far sempre meglio e di più. Sul catalogo online di Mona Lisa ci sono già alcuni dei prodotti per i più piccoli con il logo di Chiara Ferragni, al momento solamente prenotabili, un anticipo rispetto alla presentazione della collezione autunno-inverno 2021-2022 per bimbi fino a 10 anni, prevista per giugno. Subito sold out. La parte 0-2 anni verrà fuori in produzione dal 1 maggio in poi, e questo dimostra che l'affare viene bene, il connubio, la conciliazione è stata perfetta. L'accordo tra Mona Lisa e Chiara Ferragni era stato ufficializzato lo scorso novembre. è quinquennale e l'azienda produrrà così i vestitini con il logo di Chiara Ferragni, l'occhio celeste con il ciglio all'insù.